Fa discutere la sentenza della prima sezione penale del Tribunale di Napoli che ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, Giuseppe Castaldo, il gioielliere che il 7 ottobre 2015 a Ercolano, armato di pistola legalmente detenuta, fece fuoco contro due componenti di una banda di rapinatori, Luigi Tedeschi e Bruno Petrone, uccidendoli sul colpo. La procura di Napoli aveva chiesto l'archiviazione e durante il dibattimento l'assoluzione di Castaldo. Sulla vicenda, che destò scalpore e polemiche, intervenne anche il leader della Lega, Matteo Salvini, che si schierò con l'imputato. Io sto con il gioielliere, scrisse sui social il neoministro del governo Meloni. Castaldo è finito sotto processo per eccesso di legittima difesa. Quel giorno aveva appena prelevato 5.000 euro da un istituto di credito nei pressi degli scavi di Ercolano, quando le due vittime, in sella a uno scooter e armati di una pistola finta, ma senza il tappo rosso, gli ordinarono di consegnare il denaro. A quel punto Castaldo tirò fuori la sua pistola e sparò, mentre i malviventi lo tenevano sotto il tiro della loro arma. Entrambi morirono sul colpo. Partirono le indagini dei carabinieri di Torre del Greco. I quattro complici, di Tedeschi e Petrone, furono identificati e arrestati in breve tempo, tutti poi condannati a sei anni di carcere.